cercando di mettere insieme le melodie e diciamo quello che più ci attira della musica irlandese con delle nostre influenze in questo caso abbiamo cercato di unire due reel irlandesi con un ritmo che è quello del jazz Manoush quello suonato dagli zingari del centro Europa adesso invece vi suoniamo un set di 3 gighe nelle quali abbiamo cercato anche in questo caso di inserire alcuni elementi nostri sperando sempre che siano di vostro gradimento grazie a tutti 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 grazie a tutti